Oggi parliamo di passioni. La passione è un esprimere il proprio potenziale, è un'energia che brucia, è un'energia forte, è un'energia che noi possiamo guidare verso una meta. Le passioni sono delle emozioni, emozioni forti e poi comincia il viaggio, un viaggio verso le tue mancanze guidato da una meravigliosa dottoressa Laura Conte, un viaggio verso un vuoto che cerchi di colmare, che ti permette di guardarti dentro, è tempo di guardarti dentro. Noi non siamo i nostri pensieri, prendiamo la consapevolezza di questo viaggio e ti arriva come una doccia fredda. E ora comincia la pratica della virtù, è un agire in modo consapevole ma non giudicante, perdonare ciò che siamo stati, perdonare ciò che gli altri sono stati per noi, le passioni vanno comprese. Capire qual è la mancanza che cerchi di colmare, qual è il dolore che cerchi di curare, questo è un passo importante verso la virtù, verso esprimere il proprio talento. In questo modo possiamo mettere il cuore e la mente in equilibrio. Ora vediamo quale energia nuova possiamo investire verso il dare. Questo è stato il mio viaggio nel webinar Leadership Consapevole delle passioni alle virtù, con la meravigliosa dottoressa Laura Conte, che io ringrazio immensamente per avermi aperto un mondo da esplorare. Grazie a Master Coach Italia per questa bellissima esperienza. Grazie a Master Coach Italia per questa esperienza. Grazie a Master Coach Italia per questa esperienza.